Ora, 5 anni e 6 mesi in primo grado di fronte a tutte le reati che ha commesso quest'uomo che abbiamo visto senza patente, macchina rubata, alcol, droga, evaso, è andato in Irlanda, poi l'hanno riacciuffato è una condanna troppo mite, avvocato? Assolutamente sì, Cristina, diventa difficile accettare una condanna di questo tenore e soprattutto è comprensibile il dolore della mamma della povera Stella il punto è intanto che il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge che va a disciplinare l'omicidio stradale che è entrata appunto in vigore lo scorso anno, nel mese di marzo che chiaramente ha inserito delle pene molto più severe rispetto a prima se fosse stato omicidio stradale? se fosse stato oggi sicuramente una pena che superava abbondantemente 10 anni e con quel tipo di procedimento ovviamente lui magari ha usufruito di una serie di benefici che la legge purtroppo in Italia gli ha consentito di avvicinare e quindi questa persona nonostante le aggravanti che comunque sono state anche riconosciute dal giudice oggi è stato punito con solo 5 anni, poco più di 5 anni noi ci auguriamo che sicuramente un secondo grado di giudizio possa dare una pena più severa a questa persona ma comunque vi è un limite oltre il quale non si può andare perché il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme che prevedono pene più severe per l'omicidio stradale poi Cristina era la previsione che è sempre stata prima dell'entrata in vigore della legge cioè per un omicidio stradale o comunque un omicidio simile in Italia non si è mai arrivati ad una pena superiore a due anni inasprire le pene perché insomma proprio per dare una qualche giustizia ai genitori che hanno questa sofferenza